Allora, ma eclatante sono i nostri saluti dal mondo, mi dobbiamo dire. I saluti dal mondo, te la dico in battuta, si è esaltato talmente tanto Pasquale da Londra. Pasquale da Londra, Gennaro, devi sapere, Pasquale da Londra ormai si diverte tantissimo a salvarci da questo suo habitat. Da Rissonante da Maria al Notting Hill e invito il regista Massimo Rossini, il nostro grandissimo regista. Allora, vediamo, saluti dal mondo. Allora, come promesso, mandiamo i saluti da Maria a tutti i pazzi per il calcio, incominciando dalla... Saluto la padrona di casa, Virginia Casillo. Un bacione grandissimo al grande amico Gennaro Iezzo. Ragazzi del corpo di ballo. La città è la città, 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 la città è la città. Un saluto alla relazione sportiva di Bertino, Moraro, Capasso, Pupo, Magri e Palmese. E a tutto il pubblico, tutti i pazzi per il... Casso! A Spezza, come promesso, abbiamo una rappresentanza spagnola. Come ti chiami? Itia. Itia. Kelly. Kelly. Andrea. E Andrea. Non è un giovannotto. Guarda quanto è bello, guarda, 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 guarda. No, adesso mai ci vengono. Ciao Giuseppe, alla prossima. Bravi! Bravi! Un bacio a Pasquale da Londra. Andatevi a mangiare la lasagna Notting Hill da Maria. Andiamo a mangiare la lasagna. Quando andrai a Londra, tutti a mangiare la lasagna. Comunque, grandissimi perché non hanno dimenticato nessuno. Quindi veramente un applauso forte. Pasquale è straordinario, grande Pasquale. Un applauso forte a Pasquale da Londra. E allora, adesso è il momento della nostra fam. Grazie a tutti.